Ciao a tutti, come va? Benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi ci troviamo idealmente nella città eterna con questo bellissimo tramonto su Roma e vi parlerò di tre verbi che creano sempre problemi ai brasiliani perché vengono confusi tra di loro. Sono i verbi aspettare, sperare e aspettarsi. E questi tre verbi perché vengono confusi? Perché sono problematici? Perché corrispondono ad un unico verbo in portoghese che è esperare, solo che esperare in portoghese viene utilizzato con significati e in contesti differenti e in italiano in questi contesti differenti e con questi significati differenti si usano appunto questi tre verbi. Oggi faremo un'analisi dettagliata, vedremo quando utilizzare ognuno di questi tre verbi, capiremo bene le differenze e sono sicuro che se ovviamente praticherete l'ascolto ripetuto, se farete l'immersione nell'italiano come sempre vi dico e vi consiglio non confonderete più questi verbi. Ok? Partiamo come sempre da un contenuto autentico. Io ho selezionato uno stralcio di una canzone italiana molto conosciuta e in questi cinque versi di questa canzone italiana ci sono questi tre verbi. Ok? Quindi possiamo avere un'idea molto precisa e possiamo capire le differenze molto bene. Allora possiamo cominciare? Prima, come sempre, informazioni di servizio mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto qui su youtube, attivate il campanellino, le notifiche e iscrivetevi al canale telegram cliccando nel link in alto. E nel canale telegram infatti io condividerò questa canzone, ok? Che analizzerò con voi in questa lezione. Quindi lì nel canale potrete ascoltarla ripetutamente, ok? E fare questo, questa immersione nell'italiano. Cominciamo. Dunque, la canzone di cui vi parlavo è una canzone dei Luna Pop, un gruppo che poi si è sciolto, che ha avuto un grande successo verso la fine degli anni 90, inizio del 2000 in Italia. Il cantante del gruppo è Cesare Cremonini, che tuttora continua a cantare, però da solo, e questa versione della canzone è proprio cantata da Cesare Cremonini da solo, in un concerto, quindi dal vivo. Qui abbiamo il testo e la traduzione. Questi sono i cinque versi dove trovate questi tre verbi e quindi analizzeremo, ok? Un verso alla volta, quindi vi farò ascoltare la canzone e vi commenterò il testo e la traduzione, ok? Cominciamo. Cosa mi aspetto dal domani? Cosa significa? Ok e spero do a magnà. Questo è il verbo aspettarsi, io mi aspetto. Aspettarsi significa prevedere, prevedere, quindi cosa prevedo che accadrà domani, ok? Cosa mi aspetto dal domani? Attenzione, prevedere è un significato, ha un significato neutro, ok? Io posso prevedere qualcosa di positivo e quindi un qualcosa che desidero o posso anche prevedere qualcosa di negativo, un qualcosa che temo o di cui ho paura, medo, ok? Quindi ha un significato neutro. Cosa mi aspetto dal domani? Cosa prevedo dal domani, ok? Che succederà domani? E continuando. Il sole in faccia no, quindi cosa prevedo? Il sole in faccia? No. O so una cara? No. Quindi non prevedo, no? Il sole in faccia. Quindi non prevedo, non sto prevendo cosas boas, questo sta dicendo il cantante, no? Non prevedo il sole in faccia. E poi dice... Ma in fondo io ci spero ancora. Ma in fondo io ci spero ancora. Ma in fondo io spero ancora in questo. Qui abbiamo il verbo sperare, che significa avere fiducia che qualcosa possa succedere. E quindi c'è anche il concetto di desiderio, no? Desiderare in un certo senso che qualcosa si verifichi. Quindi avere fiducia, ter confianza che algo possa conteser, desejar allo stesso tempo, potrebbe anche significare augurarsi, no? Quindi mi auguro, in fondo io ancora mi auguro ci, questo, questa cosa. E che cosa, che cosa spera il cantante? Che cosa si augura? Che cosa ha fiducia? Ok? Le ten confianza che possa conteser? Che tu ci sia nel mio domani. Che você esteja no meu amanhã. Ok? Quindi non prevedo cose buone, no? Non prevedo il sole in faccia, ma in fondo, no fundo, io spero ancora che tu ci sia nel mio domani. Che você esteja no meu amanhã. Ok? Quindi abbiamo visto mi aspetto, aspettarsi come prevedere, no? Cosa prevedo dal domani. E poi abbiamo visto il verbo sperare, che significa avere fiducia, no? Ter confianza, augurarsi, quindi in un certo senso desejar che qualcosa si verifichi, che algo accontesa. Spero, ainda spero, desejo che você esteja no meu amanhã. Ok? Come vedete, in portoghese abbiamo finora sempre utilizzato il verbo esperar. Espero do amanhã. E io, ainda spero che você esteja no meu amanhã. E poi, continuando, cosa dice? E qui, attenzione, breve interruzione del video, apriamo una parentesi. Mi sono appena accorto in fase di edizione del video che io ero al concerto di Cesare Cremonini. Guardate qua, ditemi se questo non sono io al concerto. Ora, sto scherzando, ovviamente non sono io, me ne ricorderei se fossi stato al concerto, ma incredibile, siamo di fronte a un caso di un, proprio di una somiglianza paurosa. Questo deve essere un mio sosia in Italia, evidentemente, che va ai concerti di Cesare Cremonini. Incredibile. Vabbè, chiudiamo parentesi. E se ti incontrerò. Questo è un futuro. E se io incontrar você, no? Se io ti incontrerò, se ti incontrerò. Spero di sfiorare le tue mani. Spero di sfiorare le tue mani. E spero toccar levemente suas mãos. Questa sarebbe la traduzione letterale, ok? Spero di sfiorare. Nuovamente, il verbo sperare. E cosa significa sperare? Avere fiducia, ter confianza, no? E augurarsi, e quindi in qualche modo desejar che qualcosa di positivo succeda, no? Quindi spero di sfiorare le tue mani. Vedete? Sperare non è neutro. Sperare ha a che fare con un sentimento positivo, generalmente, no? Si spera, cioè ci si augura, spesso sta in confianza che algo positivo possa contesser. E qui facciamo un breve approfondimento, una piccola parentesi del verbo sfiorare. Toccar levemente sarebbe in portoghese. Non ho trovato un verbo più specifico. Ma che cosa significa sfiorare? Giusto per intenderci. E questo, vedete, questa foto delle mani, queste due mani si sfiorano, ok? Si stanno sfiorando. Questo è sfiorare. Toccarsi appena. O, nella foto di sotto, una cosa che accade molto spesso in una gara di Formula 1. Io sono ovviamente un appassionato ferrarista. Ecco, questa è un'immagine che un tifoso della Ferrari non vorrebbe mai vedere. Questi sono dei fotogrammi presi da un gran premio, no? Di una corsa. Sono tre fotogrammi diversi. Prima le Ferrari distanti, poi le Ferrari che si avvicinano e poi, nel fotogramma più in basso, le Ferrari che si sfiorano, ok? Qui le Ferrari si stanno sfiorando, cioè si toccano appena ruota con ruota. Ed è quello il momento in cui un ferrarista rimane, no? Rimane proprio immobile, no? E perde quasi il fiato. Si potrebbe dire, forse Adriana direbbe in questa scena, che a Ferrari ciroma fina da oltre a Ferrari, ok? Io ho sentito da Adriana e qui a San Paolo dire questa espressione. Non so se la conoscete, ma ecco, questa dà l'idea di cosa significa sfiorare, no? Ciraruma fina, no? Si potrebbe dire. Perlomeno in questa situazione del gran premio, no? Di una gara, ok? Quindi questo è sfiorare. E quindi lui dice, spero di sfiorare le tue mani, ok? E andiamo all'ultimo verso. Eccolo qua. Andiamo al minuto esatto, perché qui saltiamo un pochino. Questi versi sono di seguito. Poi dobbiamo saltare qualche, qualche verso e andiamo a quest'ultimo. Vediamo un po' il minuto, vediamo se è questo, minuto 2,24. Ecco qua, sentiamo. Aspetta almeno un minuto. Questo è il verbo invece aspettare, ok? Abbiamo visto aspettarsi, abbiamo visto sperare e adesso è aspettare. Aspetta almeno un minuto e spera perlomeno un minuto. Quindi aspettare è nel senso di aspettare legato al concetto di tempo. Esperar, per esempio, esperar un onibus, no? Quindi aspettare un autobus. Esperar un minuto o una ora, quindi aspettare un minuto, aspettare un'ora. Aspettare una persona e sperar una persona, ok? Quindi aspettare è legato al concetto di tempo, va bene? Quindi aspetta almeno un minuto e spera perlomeno un minuto, ok? E questa era quindi la canzone del Luna Pop, Un giorno migliore. Adesso approfondiamo ognuno di questi casi, ognuno di questi verbi, e in modo particolare, quindi la differenza tra aspettarsi e sperare, che sono confusi molto spesso. Allora, ovviamente questi due verbi dal punto di vista fonetico sono totalmente diversi, ma dal punto di vista del significato per certi versi sono simili, no? Ed è questo che fa confondere. Allora, guardate questa frase. Spero, dove usiamo aspettarsi, sperare e aspettarsi. Spero che il futuro sia favorevole, ma sinceramente non mi aspetto grandi cose. Cosa significa in portoghese? E spero che il futuro sia favorevole, ma sinceramente non spero grandi cose. E allora, prima abbiamo il verbo spero, sperare, quindi desejar, io desejo, io spero che il futuro sia favorevole, ma sinceramente non mi aspetto grandi cose, cioè non prevedo grandi cose, ok? E qui è non mi aspetto il verbo aspettarsi, prevedere. Quindi io desidero, una cosa positiva, ma sinceramente non prevedo, no? cose, grandi cose, quindi cose buone, cose belle, ok? Quindi ecco la differenza tra, vedete, in una stessa frase sperare e aspettarsi. Sperare, desiderare, aspettarsi invece è prevedere, prevedere qualcosa che può essere positiva o negativa. Io posso dire mi aspetto che, non so, l'economia nei prossimi tre mesi migliori, oppure mi aspetto che l'economia nei prossimi tre mesi peggiori, ok? Prevedo. Ovviamente spero che migliori, ma magari mi aspetto, accregito, con base in uno status che ottengo ora, che vai a piorare, ok? Quindi questa è la differenza tra sperare e aspettarsi, ok? Quindi aspettarsi, prevedere algo che può essere positivo o negativo, sperare ovviamente invece è desiderare, desegiare qualcosa di positivo, ok? E ancora, approfondiamo ancora quindi l'aspettarsi, questa doppia valenza, no? Aspettarsi qualcosa di positivo o di negativo. Guardate questa frase, non me lo aspettavo da te, non sperava isso gi você, ok? Quindi io non prevedevo, non prevedevo che tu potessi fare questa cosa, una cosa negativa evidentemente. Questa è una frase che sottintende un significato negativo, non sperava isso gi você, no? Sono rimasto deluso, quindi non posso accreditare che você fez isso, no? Questo è un po' il significato di questo, non me lo aspettavo da te, no? Non posso accreditare che você fez isso, ok? Quindi, accezione negativa, ok? Non prevedevo questa cosa negativa. Oppure, bravo, era quello che mi aspettavo da te. Cosa vuol dire? Muito bom, era chilo che eu esperava gi você, cioè conoscendoti, sapendoti che sei un bravo ragazzo, in questo caso, o brava, sei una brava ragazza, prevedevo che tu potessi fare questa cosa positiva, ok? Era quello che mi aspettavo da te, che prevedevo da te, ok? A chilo che eu esperava gi você. E quindi nuovamente aspettarsi, quindi prever alguma coisa che può essere positiva o negativa, che può essere positiva o negativa, ok? E ancora, vediamo adesso invece la differenza tra il verbo aspettarsi e aspettare. Sono simili dal punto di vista fonetico, no? Del suono, ma sono evidentemente molto differenti dal punto di vista del significato, ok? E allora, guardate questa frase, è da un'ora che aspetto il treno, mi aspetto come minimo delle scuse da parte della compagnia ferroviaria. Quindi, frasuma ora che spero tren, quindi aspetto è il verbo aspettare, no? Aspetto da un'ora, aspettare è legato al concetto di tempo, no? Quindi frasuma ora che spero tren, mi aspetto come minimo delle scuse da parte della compagnia ferroviaria e spero non minimo ospegitos di desculpas por parte da scompagnia di tren. Quindi mi aspetto di aspettarsi, quindi prevedo, no? Come minimo delle scuse, cioè, come dire, raso avvelmente e ho accregito che, come acconteseo isso, a compagnia di tren vai a peggire desculpa, o magari un rimborso, mi aspetto un rimborso, no? Uma devolução do valor da passage, quindi il rimborso del valore, del prezzo, del biglietto, ok? Quindi aspetto il treno, nel senso di aspettare, legato al concetto di tempo, ma mi aspetto delle scuse o mi aspetto un rimborso, ok? Quindi una restituzione dei soldi, quindi mi aspetto aspettarsi, nel senso di prevedere, ok? E quindi nuovamente abbiamo visto adesso invece questa differenza tra aspettare e aspettarsi. Notate che cambia totalmente il significato tra questi due verbi e la differenza tra questi due verbi è che il verbo aspettarsi ha semplicemente questa particella si, è la forma pronominale del verbo aspettare, ok? Quindi aspettare, aspetto un minuto, no? Aspetto un attimo, no? Espera un minuto, por favor, quindi legato al concetto di tempo e invece aspettarsi, no? E invece io mi aspetto che la borsa migliori, io prevedo, no? Che a borsa, no? A economia vai a migliorare, ok? Quindi questa è la differenza tra questi due verbi. Bene ragazzi, spero che sia stata chiara questa lezione, spero che abbiate capito, che adesso siate più consapevoli, più coscienti di questa differenza tra aspettare, aspettarsi e sperare. Sono tre verbi, vi ripeto, che generano molti problemi e inducono molto spesso i brasiliani a sbagliare. Ora, sicuramente adesso con questa lezione avrete le idee più chiare, avrete più consapevolezza del significato di questi verbi di quando vengono usati, ma vi ripeto, per riuscire ad usarli correttamente è fondamentale che voi ascoltiate e molto gli italiani usando, no? Che usano questi verbi, mentre usano questi verbi. Quindi voi, ascoltando gli italiani, riuscirete ad usare voi stessi questi verbi nella situazione, nel contesto corretto, perché forza di ascoltare cosa ti aspetti? Ah, mi aspetto che l'economia migliori, oh, mi aspetto che peggiori. Voi direte mi aspetto, cosa ti aspetti, mi aspetto, cosa ti aspetti dal domani, no? Cosa prevedi, ok? Non direte, ad esempio, cosa aspetti dal domani, no? Cosa ti aspetti, ok? Quindi la forma pronominale, ok? O, ad esempio, sono qui che aspetto il treno, non direte sono qui che spero il treno, ok? Non avrebbe senso, va bene? Quindi è fondamentale ascoltare gli italiani italiani che utilizzano queste espressioni nel contesto corretto. Ovviamente voi automaticamente acquisirete queste espressioni e le utilizzerete anche voi a vostra volta correttamente, ok? Ma oggi, grazie a questa lezione, saprete, avrete più coscienza di questa differenza e saprete il perché gli italiani parlano in questo modo, ok? Quindi, mi raccomando, ascolto, ascolto ripetuto, nel canale Telegram trovate questa canzone che vi consiglio di ascoltare ripetutamente. La musica è molto buona perché si presta proprio all'ascolto ripetuto, si presta ad essere cantata ad alta voce, è un esercizio molto importante, quindi anche per favorire, no? Il parlato, no? Aiutarvi a sbloccare il parlato, quindi cantate ad alta voce e prestate attenzione. Cosa mi aspetto dal domani? Spero che tu ci sia ancora, non mi ricordo com'era la frase, quindi, ok, quindi attenzione, notate queste differenze di significato di queste espressioni. Va bene? Ok, allora io vi invito a questo punto alla prossima lezione o, come sempre, se potete commentate, mettete mi piace, condividete questo video. Se voi più mettete mi piace, più commentate, più condividete, tanto più YouTube capisce che questo tipo di contenuto vi piace, quindi è più probabile che vi proponga altri miei video con queste caratteristiche, magari con queste tematiche, ok? E ovviamente io vi ringrazio perché vuol dire che state apprezzando il mio lavoro, ok? Un grande abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!